ciao a tutti oggi vi farò vedere come installare i font shx quindi monolinea per le vecchie versioni di autocad che si usano anche con le cnc su lightburn quindi una volta scaricati i vostri file shx che potrete trovare su internet o io ve ne lascerò qualcuno nella descrizione del video che potrete anche scaricare per installarli su lightburn vi basta andare su modifica impostazioni impostazioni file e qui dove dice imposta percorso font shx scegliere la vostra cartella quindi li salvate in una cartella io ce l'ho qua in e font shx mi sono fatto una cartella apposita solo per i font shx dove ne ho caricati 600 ecco uno qua è già selezionato mr romance che è quello diciamo che insieme al g12 uso di più quindi andiamo a scrivere testo di prova monolinea ecco qui generando il nostro testo di prova questo qui quindi andiamo a dire al laser che lo devi fare come linea non come fill perché praticamente questo font qua va alle linee aperte quindi non le andrebbe a chiudere quindi a rovinare l'effetto quindi impostiamo linea e se andiamo a simulare una lavorazione vedremo che questo testo anche se molto lungo perché sono 25 centimetri in 11 secondi in soli 11 secondi a 450 mm al secondo che è la velocità che uso nel mio caso la linea la il testo verrà inciso ecco qua questa è la simulazione e questo qua se noi andiamo a ingrandire vedete che effettivamente sono linee singole ovviamente di questi font ne esistono di tantissimi tipi come font classici io ne ho 600 di questi font qua eccolo questo qui pochettino corsivo ma il risultato della lavorazione è sempre quello di sempre incisione di font di linee singole fate anche questo ci mette 15 secondi rispetto al a un font simile ma riempito faccio vedere qualcun altro poi ve ne lascerò 4 o 5 in descrizione se avete altri dubbi o domande o volete qualche altro tutorial sul sull'uso del laser sul light burn vi invito a lasciare mi piace iscrivervi al canale attivare la campanella per avere per essere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video e commentate con con i vostri dubbi domande o i video che vorreste io il vi preparo e li caricherò sul canale grazie al prossimo video